Buongiorno a tutti da EasyTronair. Oggi discuteremo brevemente con Don Paolo Zucchion, direttore della Carità Signor Cesana, e con la signora Chiara, mamma e operatrice per essere un po' della solidarietà sui giovani, del loro rapporto con internet e sulle nuove tecnologie. Allora, secondo lei la possibilità di accedere a tante informazioni da parte dei giovani, a volte anche senza un controllo, è un fatto positivo o meno? Beh, per me non è assolutamente positivo il fatto che si possa accedere, soprattutto da parte dei giovani, a tante informazioni senza un filtro, perché sulla rete, come si dice, gira di tutto, per cui dalle depravazioni a cose e quindi accedere a questo non è secondo me positivo. e poi anche, cioè non è che io sia contro la rete, per amore di Dio, anzi è uno strumento che può essere positivo se usato bene, può diventare deflagrante, negativo se usato male, ecco. Il rischio qual è secondo me? Di entrare in un mondo virtuale, che non è reale, quindi perdere la relazione che è indispensabile, la relazione personale, la relazione io-tu, fatta di incontri, eccetera. A me colpiva proprio stamattina, quando venivo su con la macchina, ho visto lì dei giovani che erano in attesa dell'autobus e tutti erano con il loro telefonino, cioè non si parlavano tra loro. Ecco, questo secondo me è un aspetto negativo delle tecnologie moderne, che hanno molti aspetti positivi. Per quanto riguarda la domanda, ritornando alla domanda, secondo me ci vuole un certo filo, un certo problema, ma anche per me stesso, se io mi metto davanti a internet, ci sono talmente tante cose che puoi essere deviato, puoi essere portato a entrare in realtà, che poi, insomma, ti sviano e, insomma, sviano la tua coscienza, ecco. Diciamo, dal punto di vista di una madre, qual è? Ma, appunto, sono d'accordo così con Don Paolo, in quanto vedo che può creare, da un lato può creare molta confusione, proprio perché i dati sono troppi e anche così un po' disordinati a volte, no? E poi, dovrebbe stare attenti ai tempi, no? Dedicare un tempo limitato a questo, no? In modo da, diciamo, non so, concentrarsi quando serve per fare un certo tipo di ricerca, così, ma non vagare così, no? Proprio perché poi si entra in un mondo virtuale, secondo me, no? Bisognerebbe, anche come genitori, dare, fare in modo che i giovani, che i figli, che i ragazzi abbiano la possibilità di avere comunque delle attività e dei rapporti personali, no? E non solo tramite telefono, cellulare, tramite internet, perché questo, penso, sia negativo. Come avete visto, diciamo, cambiare i giovani negli anni, no? Diciamo, rispetto a noi, la nostra generazione, sì, come dicevate voi, è più legata al telefono, all'internet, diciamo, rispetto alla vostra generazione. Ma, cioè, a prescindere dal fatto che io ho fiducia dei giovani, e vedo che quando i giovani sono stimolati in maniera positiva, rispondono bene, e purtroppo più delle volte nella nostra società non sono stimolati in maniera positiva, cioè, anche questo, di chiudersi se stesso, di non avere relazioni, eccetera, di non avere una chiara gerarchia dei valori, come diceva Chiara, che c'è confusione, eccetera, e questo fa sì che molti giovani vivano, non cercando la relazione con l'altro, secondo me, ma vivano in se stessi e questo crea un'infelicità di fondo, perché noi siamo contenti quando relazioniamo con gli altri e siamo, interagiamo con le persone, siamo fatti per questo, per interagire con le persone. Per quanto riguarda il nostro osservatorio, cari, trasvediamo ad esempio come sia difficile coinvolgere i giovani all'interno di progetti, eccetera, di volontariato, come ci sia un individualismo crescente, però, ripeto, ad esempio, e qui l'esempio dell'emporio, cari al pennello, dove c'è un coinvolgimento, un progetto, eccetera, non tantissimi, ma ci sono dei giovani che rispondono in maniera positiva e dopo sono anche contenti, ecco, perché secondo me la vera gioia, la vera felicità la trovi proprio nella relazione, soprattutto nel metterti al servizio dell'altro, del fare qualcosa per l'altro, ecco, questo valore viene a mancare, oppure un po' confuso, oppure, sì, ad esempio, per dire un esempio che forse creerà un po' di scalpore, ieri mi ha chiamato una nonna dicendomi se posso mandargli dei cd dove si mostrano un filmato che lei aveva visto alla televisione sulla solidarietà, perché vuole mostrarli ai suoi nipoti, proprio per tirarli fuori, per svegliarli, perché mi dice, questi ragazzi sono dei buoni ragazzi, però non sono lì, e gli interessa, ad esempio, soltanto gli animali, salvare gli animali, oh Dio, salvare gli animali è tutta una cosa buona, positiva, però se c'è una gerarchia di valori l'uomo viene prima, ecco, poi ci saranno alcuni che si dedicheranno essenzialmente agli animali, però non dobbiamo mai tenere, non dobbiamo mai dimenticare che l'uomo va al primo posto, allora questa nonna aveva questo desiderio di far sì che i propri figli, o meglio i propri nipoti, acquistassero una gerarchia di valori nelle relazioni con gli altri, con le cose, con le persone, e quindi dessero importanza, ad esempio, a chi soffre, ecco, perché questo filmato che mi chiedeva parlava di persone della sofferenza, ecco, credo che al fondo oggi ci sia questa confusione che è forse dettata dalla pluralità, dalla immensa possibilità che hanno oggi i giovani di accedere a tanti modi di vedere la vita, di vedere il mondo, che alla fine crea una confusione e non si ha una gerarchia di valori. Allora il valore essenziale che noi diciamo è quello della persona umana, ecco, e della relazione personale, e del fatto che se tu ti metti al servizio dell'altro, trovi quello che in fondo il tuo cuore cerchi profondamente, che è la vera felicità, ecco. Questo oggi purtroppo i giovani non hanno chiaro, però ripeto, quando si trovano stimolati davanti ad esperienze positive, rispondono anche loro in maniera positiva. La differenza che noto proprio un giorno parlando anche con i miei figli, così è questa, no? Forse è una grande dipendenza da tutto questo, dal telefono cellulare, dal internet, da queste informazioni che si possono prendere con grande facilità, perciò non si fanno più certe fatiche, insomma, di cercare, di scrivere, di... La vecchia ricerca sull'enciclopedia. Però, insomma, aveva degli aspetti importanti anche questa cosa qua, no? Ma quello che noto, ad esempio, appunto, la dipendenza anche dal cellulare, forse ha un aspetto negativo, perché in passato dicevo proprio ai miei figli, no? Io da ragazza andavo in giro, poi, insomma, cioè non ero recuperabile, reperibile, non so come dire, c'era, ci si basava sulla fiducia con i genitori, e di più forse anche, e sul sapersi arrangiare, no? Adesso, invece, siamo tutti impauriti, no? Dov'è, dove non è, controllo, no? Anche questo continuo, insomma, comunicare dove sei, dove non sei, insomma, ci crea, ecco, una dipendenza che penso sia tutto sommato negativa, no? Ci toglie un po' di libertà e un po' di, anche, di capacità di doversi un po' raggiare. Vi ringraziamo per l'attenzione e vi rimandiamo al canale interviste di EasyTigonair TV, dove troverete altre interviste, tra cui quella che spiega come funziona l'apporto della solidarietà di Gorizia. Arrivederci. Grazie.